Il Torino fu proclamato vincitore del campionato a tavolino e gli avversari di Torino. Si chiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica di Superga. Siamo in via alla Basilica di Superga. Questa basilica è alta 75 metri. Per sottarla il colo fu avassato di 40 metri. Le vittime furono 31. In ricordo della tragedia, la FIFA ha proclamato il 4 di maggio come giornata mondiale del gioco del calcio. Dal cardinale delle Lanze, la Basilica di Superga, note anche come Real Basilica di Superga, sorge sull'omonimo cole a nord-est di Torino. Il giorno dei funerali, quasi un milione di persone in piazza Torino per dare l'ultimo saluto al giocatore della compagna aerea Ali, con a bordo l'intera squadra del grande Torino.